Buongiorno, martedì 4 luglio su TV7 Evoluzione Casa, oggi Santa Elisabetta e Sant'Elia, partiamo dalle notizie del mondo col Medio Oriente in Cisordania dove Israele lancia un'operazione, si contano 8 palestinesi uccisi. Parliamo del femminicidio di Roma, ieri una fiaccolata in ricordo della giovane Michelle. Decreto lavoro, va letto, va studiato perché mai è stato convertito in legge, si parla di taglio al cuneo fiscale e smart working, quindi un decreto, una nuova legge che va approfondita. Bianca Bellinguer lascia la RAI dopo 34 anni, per lei c'è già uno scenario, un'ipotesi Mediaset. Virpini a Mercogliano da ieri è istituito il punto gioco per i bambini con i volontari del servizio civile. A Santa Paolina da ieri è ripartita una grandissima tradizione quella della scuola di Tombolo, mentre a Ospedaletto dal Pinolo domani alle 18.30 al centro sociale ci sarà un evento, un convegno incontro sul valore e la visibilità del comune Irpino. Con questo è tutto, ci ritroviamo domani mercoledì 5 luglio.